buongiorno a tutti eccoci qui siamo oggi a bordo della hyundai i30 station wagon per fare il punto sul penultimo round del 2017 il gran premio del brasile che si è corso domenica scorsa e che ha visto la vittoria di sebastian vettel con kimmy raikkonen anch'esso sul podio con terzo posto un risultato che ha lasciato un po così sconcertati i tifosi ferraristi perché un doppio podio che arriva quando ormai diciamocelo non serve più nel senso il campionato è stato assegnato come sapete due campionati negli stati uniti e in messico quindi ormai restano le briciole resta per vettel la certezza di portare a casa almeno il secondo posto nei costruttori anche grazie a una gara particolare che ha visto valteri bottas partire dalla pole e poi arrivare al secondo posto comunque ottimo intendiamoci ma al termine di una gara assolutamente opaca in cui il finlandese è stato trasparente una gara che ha avuto movimento fin dal sabato con il grosso colpo di scena di emilton che come sapete è botto nel q1 eliminato subito una cosa che non accadeva da tantissimo al neo campione del mondo e quindi un episodio strano un'uscita strana c'è stato chi ha insinuato che campionati conquistati la mercedes stia provando negli ultimi due gran premi novità in vista del 2018 e quindi questo incidente possa essere stato causato da qualcosa che la squadra tedesca sta provando resta il fatto che emilton è doveva partire ultimo ha scelto di partire dalla pit lane questo è stato sicuramente ottimo per lui in quanto si è tenuto fuori dal botto al via botto che ha messo fuori gioco macchine carambola e tutto quanto e chi ha fatto uscire la safety car emilton ha fatto una gara magistrale quanto l'ha fatta daniel ricciardo sulla red bull anche lui è partito arretrato dalla quattordicesima posizione per via della penalità motore e quindi entrambi autori di grandissime gare di rimonta con emilton che è arrivato ai piedi del podio al quarto posto chapeau al campione del mondo chapeau a questa mercedes che ha dimostrato per un ennesima volta di essere una forza della natura ma va anche detto e riconosciuto che grosso peso ha avuto la safety car perché non dimentichiamo è uscita nel quinto giro e quindi questo ha consentito a emilton di recuperare quel distacco che indubbiamente c'era una gara che ha visto anche il grosso litigio che c'è stato tra Toro Rosso il fornitore di motori e Renault fornitore ormai solo per i gran premi di Abu Dhabi perché come sapete Toro Rosso dal prossimo anno sarà motorizzata Honda c'è stato uno scambio pesante con Cyril Abidbul il grande capo Renault che ha lasciato intendere che tutti i problemi che Toro Rosso sta avendo dopo il break estivo siano dovuti a problemi di telaio e non in realtà di motore a questo Toro Rosso ha risposto con un comunicato senza mezzi termini senza mandarle a dire molto duro e poi quello che ha sorpreso è stato quello cui abbiamo assistito nel paddock cioè questo scambio di opinioni molto vivace tra Abidbul e il grande capo della Redwood Helmut Marco a cui ha fatto seguito un comunicato secondo noi di mea culpa e mi cospargo il capo di cenere dell'austriaco che ha cercato di tamponare le cose dicendo che col fornitore motori va tutto bene problemi non ne hanno mai avuti e tutto prosegue così non ci è piaciuta tanto questa cosa perché se la Toro Rosso è il vivaio di Red Bull sono comunque una grande famiglia dovrebbero essere una grande famiglia e invece tra sabato e domenica questa grande famiglia si è un po' spezzata il legame familiare ne ha risentito insomma non è molto carino che il capo famiglia dica mio figlio ha sbagliato le cose non stanno esattamente così in realtà va tutto bene perché i motori saltano come petardi e insomma il problema c'è stato anche sulla Red Bull di Verstappen che è tornata una vecchia specifica già usata per cui almeno non ha avuto penalità e già questo è positivo è stata una gara che ha visto arrivare a punti la McLaren ottava con Alonso un Alonso che se ha una macchina se ha un motore che tiene soprattutto è sempre Alonso è Alonso che ci ha regalato degli splendidi duelli assieme all'altro protagonista di questo gran premio Felipe Massa che come sapete ha corso per l'ultima volta la sua gara di casa tutti temevamo l'addio strappalacrime visto lo scorso anno invece è stato qualcosa di molto bello ma molto contenuto emotivamente forte ma un Felipe Massa probabilmente più forte dopo l'esperienza dello scorso anno ed è stato bellissimo vederlo sul podio con un altro ex brasiliano con Rubens Barrichello i due molto amici ed entrambi simboli di una Formula 1 che non c'è più che dell'altro ieri ma sembra lontanissima ed entrambi che hanno fatto parte della Ferrari e quindi hanno contribuito ai successi Ferrari nel corso degli anni è stato un bel gran premio per questo ci è piaciuto sono stati 71 giri velocissimi il circuito di Interlagos è splendido secondo noi e solo vedendolo dal vivo ci si rende conto di quanto le salite siano salite e quanto le discese siano discese spaventose purtroppo però Interlagos in questo weekend ha visto anche l'esplodere finalmente sui media di una situazione che esiste da sempre perché noi siamo stati là nel 2007 quando Raikkonen ha vinto il titolo e vi assicuriamo che uscire una sera dal circuito era davvero da togliere il fiato nel senso che tu arrivavi al cancello al cancello dovevi accenerare e schiacciare sull'acceleratore semafori rossi prenderli in pieno all'inizio vi assicuro che è tutt'altro che facile perché è contro natura prendere un semaforo rosso passare devi spingere come se non ci fosse un domani come se dovessi vincere la gara della vita perché devi portare a casa la penne sono lì sono in agguato la povertà è quello che è la situazione economica del paese è quello che è e non è migliorata in dieci anni e quindi ricordiamo dieci anni fa un agguato agli uomini della McLaren che uscivano dal circuito qualche anno dopo ci fu un episodio che vide come protagonista Jenson Button quest'anno gli episodi di violenza sono stati diversi tentativi di furto, di rapina particolarmente scioccato è stato Lewis Hamilton che i suoi uomini sono stati assaliti all'uscita pistola alla tempia questa cosa ha riguardato anche altri team, ha riguardato la Sauber, ha riguardato la stessa McLaren finché sono stati assaliti domenica sera anche i uomini della Pirelli Pirelli che proprio per motivi di sicurezza ha deciso di tagliare la testa al toro e di cancellare i test pneumatici 2018 che avrebbe dovuto fare proprio con la McLaren martedì e mercoledì una situazione non bella e non ci è piaciuto l'atteggiamento del sindaco di San Paolo che è chiaro deve portare acqua al suo mulino a difendere il Gran Premio che ha un contratto firmato fino al 2020 e poi va ridiscusso però insomma questa cosa non è logica un sindaco non può venire a dire è tutto nella norma perché probabilmente essere assaliti a mano armata o inseguiti e una macchina davanti e una dietro che ti bloccano può essere normale a San Paolo ma non può essere normale per noi europei e consideriamo che se i grandi capi della Formula 1, i team boss viaggiano comunque con scorta armata e tutto quanto i fantozzi della situazione cioè dai meccanici a noi giornalisti ai fotografi, alle tructe televisive no, non abbiamo le guardie del corpo e non giriamo armati quindi è una situazione che potrebbe portare scredito sul Gran Premio del Brasile anche perché non dimentichiamo che con l'uscita di scena di Felipe Massa scompaiono i brasiliani dalla Formula 1 che è un qualcosa veramente di incredibile abbiamo tutti negli occhi e nel cuore Ayrton Senna impossibile andare a Interlago se non pensare a lui non rivivere, non avere negli occhi le sue gare ed è incredibile pensare che il Gran Premio del Brasile sia a rischio quindi adesso ci prepariamo per Abu Dhabi ultimo round di questa lunghissima corsa almeno a noi è parsa lunghissima e dopodiché si comincia a pensare al 2018 al 2018 in cui secondo molti la Ferrari non avrà chance sono stati l'ex ormai campione del mondo Nico Rosberg a dirlo e hanno aggiunto un carico da 90 anche Montezemolo e Briatore che dicono che questa Mercedes continuerà in questa forma e per la Ferrari ci sarà ben poco da fare i tifosi spingono felici comunque di questa vittoria anche se insomma lascia un po' l'amaro in bocca ci vediamo dopo Abu Dhabi ciao a tutti